L'RG Ticino interrompe il lungo digiuno e ritrova il successo passando di misura 1-0 sul campo del Briga grazie alla rete di Colombo al quarto d'ora della ripresa. La prima frazione di gioco è povera di occasioni, non succede granché e l'unica vera chance di tutto il primo tempo capita al 36esimo con il Briga che spiora il vantaggio. Traversone preciso dalla sinistra di Bellocci, Suppa si inserisce bene in area sul secondo palo ma da pochi passi fallisce il tap-in mettendo fuori. Si va dunque al riposo sul risultato di 0-0. La ripresa è sicuramente più accesa. I primi a farsi vedere in avanti sono ancora i padroni di casa all'ottavo con Balgini che riceve palla al limite dell'area, si gira e ci prova con una botta con il destro ma Russo si fa trovare pronto e salva. Il Briga gioca meglio ma è l'RG Ticino a sbloccare il punteggio al 14esimo. Burlone serve sulla destra per Vassallo che effettua un traversone basso in area. In mischia Colombo si ritrova il pallone tra i piedi e a porta sguarnita deve solo appoggiare in rete per l'1-0 in favore dei Verde Granata. Il Briga non ci sta e prova a reagire. Al 26esimo conclusione di Balgini da posizione defilata. Russo è attento e devia in angolo. Nel finale gli uomini di Licai tentano il tutto per tutto e vanno vicinissimi al pareggio al 45esimo. Cross lungo dalla destra, Negretti in area stacca di testa in tuffo ma non è abbastanza preciso e mette fuori. Non basta il forcing finale del Briga. L'RG Ticino difende con i denti e conquista i tre punti.